Ospedale Trigone di Noto, declassato, si trasformerà in ospedale di comunità. Mentre sono già state attivate dal 31 marzo scorso le quattro centrali operative territoriali e l'Aspel di Siracusa è impegnata nella realizzazione entro giugno del 2026 di tutti gli ospedali e le case di comunità previste dal decreto ministeriale 77 nell'ambito della provincia Aretosea, il commissario straordinario dell'Aspel di Siracusa, Caltagirone, ha individuato all'ospedale Trigone di Noto quale sede dove avviare entro dicembre di quest'anno, così come è previsto nell'accordo tra la regione siciliana e Agenas il progetto sperimentale degli ospedali di comunità e delle case di comunità. La scelta del progetto di sperimentazione è ricaduta sull'ospedale di Noto, dichiara il commissario straordinario tenuto conto che rispetto a tutte le sedi dei quattro distretti della provincia di Siracusa destinatari delle nuove strutture in corso di realizzazione con il programma di finanziamento del PNRR l'ospedale di Noto si presta all'accelerità dei tempi necessari per gli adeguamenti logistici ai fini dell'allocazione assieme alla centrale operativa territoriale già attivata dell'ospedale di comunità e della casa di comunità che saranno a disposizione della cittadinanza da fine anno in via sperimentale e poi in via definitiva da giugno del 2026 come previsto fornendo servizi alla zona sud così come a tutte le altre aree del Siracusano mai avuti in passato. L'azienda attraverso gli uffici tecnico, servizi informatici e il Dipartimento per l'assistenza estetuale dell'integrazione sociosanitaria ha predisposto e trasmesso dal Dipartimento pianificazione strategica dell'assessorato regionale della salute il cronoprogramma con il piano di attuazione che contiene per ogni struttura da attivare in base agli elementi indicanti da Agenes oltre alle azioni già poste in essere le azioni programmate c'è la realizzazione delle strutture, il reclutamento del personale, le procedure di funzionamento, il coinvolgimento degli enti locali e delle associazioni di volontariato, l'integrazione con i convenzionati nonché i tempi di attuazione e gli indicatori di monitoraggio. Grazie a tutti.